Ciao a tutti, sono Chiara Medea, ho 46 anni, sono di Treviso, sono Miss Mamma Italiana Gold Sorriso 2023. Sono un'impiegata commerciale e sono mamma di due ragazzi, Lorenzo di 14 e Davide di quasi 12 anni. Vi presento la poesia che ho scritto dedicata al Natale che si intitola Christmas Time. Ci sono momenti in cui il sole si copre di nuvole dense di pensieri, ci sono giorni in cui il nostro cuore resta sospeso e vuoto con le sue preoccupazioni, poi all'improvviso una luce ci avvolge, densa ed accogliente, la magia del Natale. Lo vediamo arrivare in lontananza, carico di sorrisi, profumi, suoni magici. Lo vediamo negli occhi dei bambini, carichi di emozioni ed aspettative, luci, canti e piccoli pacchetti colorati. Ma lo troviamo soprattutto sempre nel nostro cuore, ad emozionarci, ad rassicurarci e a ricordarci sempre che noi tutti non siamo mai soli. Merry Christmas to all of you. Grazie.